Fonici, trascrittori e stenotipisti, forensi e insittino oggi anche dinanzi al Tribunale dell'Aquila per portare avanti la loro vertenza, rischiano il posto di lavoro dopo la riforma a Cartabia e ad oggi non ci sono state risposte dal Ministero della Giustizia per i lavoratori del Servizio di Documentazione degli Atti Processuali. Nonostante anni di precarietà e mancato riconoscimento delle professionalità, i lavoratori e le lavoratrici hanno assicurato sempre l'efficace funzionamento della giustizia in Italia. Chiediamo l'internalizzazione dei lavoratori, un'internalizzazione che era stata proposta nel mese di novembre proprio dal Ministero di Grazie e Giustizia che però poi ha fatto un passo indietro solo un mese dopo rimettendo in discussione posti di lavoro e salari di persone che operano nel territorio abruzzese su tutti i tribunali, parliamo di 200 persone che garantiscono tutti gli atti processuali. Ad oggi pretendiamo un incontro, un incontro che ci è stato negato, che ad oggi ancora non riusciamo ad effettuare, in quell'incontro continueremo a chiedere l'internalizzazione, continueremo a chiedere il mantenimento dell'occupazione e dei livelli salariali. Qualora si dovesse discutere non più di internalizzazione, pretendiamo che venga fatto un bando, un bando che possa garantire ancora una volta l'occupazione di tutti e gli stessi livelli salariali. Non siamo convinti che la riforma cartabbia possa essere attuata nell'immediato perché molti tribunali sono privi di una buona connessione e soprattutto i mezzi a disposizione non potrebbero garantire quella qualità che possono garantire degli esseri umani di fronte a deposizioni nei nostri dialetti, dialetti che in alcune regioni sono difficilmente comprensibili all'uomo, figuriamoci la macchina. Grazie a tutti.